Quale ricaduta avrà sulle imprese questo accordo? Questo accordo con i corecuperi sulle nostre imprese avrà una ricaduta positiva in termini di smaltimento corretto degli effegas che sono chiaramente impattanti per l'ambiente, ma soprattutto darà un prezzo certo nello smaltimento che è fondamentale per le nostre aziende nel dover formulare preventivi che riguardano appunto le manutenzioni e assistenza sugli impianti di climatizzazione.